Silvina Re festa Allora, perché le piante ci hanno inventato? Perché ci hanno inventato? Ci hanno inventato perché hanno creato l'atmosfera dove noi viviamo. Hanno creato l'atmosfera che noi respiriamo. Cioè, senza le piante, noi non potremmo respirare. Il cibo che noi mangiamo deriva direttamente o indirettamente dalle piante, cioè senza le piante noi non potremmo mangiare, oserei dire che non potremmo neanche tanto bere. Materiale da costruzione, da che mondo è mondo le piante ci accompagnano volontariamente, anche meno volontariamente, nella costruzione delle nostre case, delle nostre superlettili, dei nostri mobili, dei nostri arredi, nella mobilità fino all'Ottocento, carri, carretti, diligenze, calessi, senza quelli non ci si muoveva. La navigazione, senza quel materiale da costruzione, le barche e le navi, insomma, senza le tre caravelle, probabilmente le Americhe sarebbero ancora molto lontane. L'energia, l'energia che noi usiamo deriva quasi principalmente dalle piante. Legname, carbone, petrolio, gas, senza questi elementi probabilmente la nostra raffinata tecnologia non si muoverebbe. E noi, molto probabilmente, rimarremo anche al freddo. Il 98% dei principi attivi della nostra medicina vengono estratti dalle piante, anche dalla nostra cosmetica. Quindi, senza le piante noi non potremmo curarci e non potremmo neanche abbellirci. Io no, perché vabbè, altre cose. Il suolo, il suolo, la terra che noi calpestiamo non è che c'è sempre stata, no. È frutto del lavoro di milioni e milioni di anni delle piante insieme a dei microorganismi. Senza questo connubio, senza le piante, noi probabilmente cammineremo ancora sulle rocce. La bellezza, insomma, nella forma, nei colori, fiori, frutti, insomma, le piante ci hanno donato grande bellezza. Quindi, noi non possiamo fare a meno delle piante. Siamo dipendenti dalle piante. Anzi, oserei dire che noi siamo i veri parassiti delle piante. Anche se, noi siamo parenti delle piante, siamo cugini stretti, in noi c'è qualcosa delle piante. Se mi guardo in giro, quel signore lì assomiglia a un rododendro, sicuro, si vede. La signora che ho visto prima entrare, flessuosa, sembrava un bellissimo pioppo. C'è lì un signore pelato che sembra un cavolo cappuccio. Cioè, insomma, in noi c'è qualcosa delle piante, non possiamo farne a meno. Tra l'altro, anche culturalmente, le piante ci hanno plasmato. Ma pensate a Tarzan. Cioè, Tarzan vive nella giungla, si sposta con le liane. Senza le liane cosa fa? Si attacca alle tende di casa. No. Pensate al mito, al mito svizzero, a Guglielmo Tell, che mette una mela sulla testa del figlio e poi la centra con una freccia. Senza la mela cosa gli mettevo? Una tavoletta di cioccolato? No, perché deriva anche il cioccolato dalle piante, capite? O anche il nostro Robin Hood, Robin Hood che scaglia frecce micidiali di legno. Senza il legno con che cosa le faceva? Con le stecche degli ombrelli? Ma pensate a Noè, diluvio universale, Noè mi costruisce l'arca. Con che cosa la costruisce l'arca? Con le pelli di capra gonfiate, no? La costruisce sacrificando una foresta, che poi ci mette su gli animali ma non le piante, tra l'altro. Però, quando capisce che le acque si ritirano, manda la colomba, la colomba torna e cos'ha nel becco? Una marmotta? No, ha un rametto di ulivo, segno che ancora una volta le piante hanno rigenerato il mondo. Ma pensate alla scienza. Newton sta lì bello seduto sotto un melo, cade una mela, colpo di genio, capisce che esiste la gravità e ne costruisce una formula. Se gli fosse caduta in testa una tegola, ti saluto Newton e ti saluto gravità. Ma pensate anche alle fave, alle favole. Questo è un lapsus che... Fave, animali. Credibile. Pensate, dicevo alle favole. La favola per eccellenza, Pinocchio. Pinocchio è scolpito in un blocco di legno. Immaginatevi Pinocchio col didò. Tutto lì un po' giù. Arriva la fatina con la bacchetta magica di legno, tra l'altro. Lo vede lì col didò, non gli viene neanche da trasformarlo in uomo. Anzi, capite? Pinocchio legno diventa uomo. Anche questa c'è una sottilezza incredibile. Pensate anche ai libri, signori. Senza le piante non ci sarebbero i libri. Immaginatevi Mosè. Mosè con queste due tavole che va sul Monte Sinai. Sta su 40 giorni. Le scritture ci dicono, sì, è stato su 40 giorni perché ha dovuto meditare, collegarsi con Dio. No, ha dovuto scolpire dieci leggi. Ci ha messo una vita. Immaginatevi Umberto Eco che scolpisce il nome della Rosa. Quanto tempo ci avrebbe messo? Ma soprattutto noi che libreria dovremmo avere per sostenere quel volume lì? Capite? Tutto deriva, non so, ma... La musica. Signori, la musica senza le piante non esisterebbe. Non solo per la scrittura, ma anche per gli strumenti. Tre quarti degli strumenti sono di legno. Se no dovremmo sempre andare a sentire... No. Cioè immaginatevi, non ci sarebbero i mariacci. L'allegria dei mariacci. Non ci sarebbero gli intillimani, signori. Col flauto a panno. Che cosa usano? Le cane dell'acqua di piombo, no? Capite? Tutto deriva da lì. Ma pensate, non so... Ecco, Battisti. Battisti che canta Fiori rosa, fiori di pesco. Con che cosa lo sostituisci? Oppure, che ne sai tu di un campo di grano? Cosa dici? Quel che ne sai di un calorifero di ghisa? Non suona bene, no? Non mi suona bene. Una betulla, lei. Ha visto come si è mossa? Pensate poi allo sport più bello del mondo. Il calcio. Senza quel bel tappeto erboso. Cristiano Ronaldo, dove fai i dribbling? Sul cemento? Pensate Quadrado, che si butta giù 20 volte a partita. Si sbucerebbe tutto. Dopo due giorni non gioca più. Quadrado, capisce? Capite? Cioè tutto, veramente tutto deriva dalle piante. Poi una cosa, il cinema. Signore, una delle cose più belle, il cinema. Le prime pellicole erano fatte con la cellulosa. Senza il cinema non ci sarebbe tre uomini e una gamba, ragazzi. Poi una, ormai un posto mitico, senza le piante. Non ci sarebbe quel posto mitico, dove ormai tutti si va in pellegrinaggio, coppie soprattutto e famiglie, il sabato e la domenica, e in tutta Europa. Capite? Non ci sarebbe l'IKEA. Vedete quello? Quei disastri. Per cui dobbiamo prenderci cura degli alberi, assolutamente. Ah, ecco poi, una cosa importantissima. Cioè, non ci sarebbe una delle città più belle al mondo, dopo Mantova, non ci sarebbe Venezia. Forse non lo sapete, ma le fondamenta di Venezia sono state costruite con centinaia di migliaia di pali di querce e rovere. Cioè, il sacrificio di due foreste fa sì che Venezia stia in piedi. Per cui dobbiamo veramente prenderci cura degli alberi, anche perché spesso io, di notte, sogno di essere un albero. Ciao a tutti. Grazie. 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 Grazie.